Oh, bravi bene! La zona cantieristica che Marina Group realizzerà qui con un investimento di 13 milioni di euro. E rispettate anche le tempistiche imposte dall'amministrazione per questa opera accessoria. Sì, è un'altra strada che si apre, nuova realizzazione, con annessa pista ciclabile, questo non dimentichiamolo, che legherà il viale adriatico con il porto turistico. Questa è la prima parte dell'intervento, con l'apertura oggi della strada che sarà fruibile. Poi seguirà entro giugno anche la sistemazione della passeggiata dell'Isipo con delle terrazze e questa sarà una bella passeggiata ovviamente che andrà anche a abbellire tutta la zona. Una zona della città che subirà un'importante riqualificazione, che darà più risalto a questa parte così suggestiva del mare, che rappresenta solo il primo passo di un progetto più ampio, che riguarderà, da adesso fino all'estate, la passeggiata dell'Isipo, dove verranno realizzati dei terrazzamenti sul mare, che dovranno però permettere anche l'accessibilità alla diga foranea, che subirà interventi di manutenzione. La conclusione delle opere di urbanizzazione che sono propedeutiche è poi la costruzione dei manufatti e quindi oggi è una giornata importante per tutta la cittadinanza, con il nuovo ingresso alla Marina di Cedro. Grazie a tutti.